Giordano Bruno Giordano Bruno brucia vivo. Il fuoco divora il suo corpo fisico. La media evoluzione di allora lo uccide. Nessun grido rompe l'odore di carne bruciata. La morte si immerge nel suo corpo induggiando. Il martire scuote la testa inesorabile contro gli assassini. Dentro le sue vene scorre già il gelo. Un tremito gli trapassa le ossa e sviene. Dopo anche la sua coscienza si ritrae e grida ai suoi carnefici che non l'hanno uccisa. La legge d'evoluzione che è divina ha vinto anche quella volta. La legge d'evoluzione che è divina.